E salve a tutti amici di Cooper, è brutissimo dire così Comunque siamo su Blackwake, perchè su Blackwake? Per chi mi seguisse sulla pagina Facebook del canale, che vi lascio in descrizione Quindi ricordate di andare lì, se succede qualcosa posto lì, le cose, le news eccetera E mi da un problema, che ora vi metto anche qui la foto E non lo dovrei riscaricare, il problema è che mi ci vuole un'eternità 8 giga di scarico adesso, perchè ho problemi, non so perchè, in circa 6 ore, forse E quindi, di nuovo un altro video solo in questa settimana, no Quindi non sapevo che cosa portare, porterò Blackwake, che però mi devo ricordare di cambiare la risoluzione Ok, dopo che mi sono ricordato di cambiare la risoluzione Sempre se funziona come dovrebbe E niente, iniziamo, vado in partita Anche se non saprei come fare un video su Blackwake, però vediamo un po' come me la cavo Ok, allora, siamo in partita E niente, siamo in partita, fine, cioè non è che ci sia tantissimo da dire E quindi, ecco, come posso fare un video su Blackwake, anche se mancano 16 minuti, però un video che non ho io, qualcosa Magari la facciamo finire, che mancano 68 kit ticket a quelli lì Qui c'è la gente che parla e non capisco nulla Allora, equipaggiamo Ah, siamo in low suit Quante ne abbiamo? Quante ne abbiamo? Ne abbiamo 11% amici, non va bene Oh no No Eh, scoppia la gente, aiuto Oddio Riecco poi l'accento che non piace a nessuno Oh, sì, buttiamogli giù le tende lì, le vele, vai così Che non l'ho manco preso Più su, più su, più su, così, bam Veniamo, veniamo Eh? Ah, sono un cecchino Dobbiamo kickare Addict Dove, minchia, io sono qui Dov'è, dov'è Addict? Dobbiamo kickare tutti Vote kick Ma, ne manca uno, eh Oh, oh Arriva Arriva il fight, arriva il fight No, credo il fight sia già bello e finito Eh, Luke, perché non mi dà Eh? Ok, ora me li dai i pallini, ottimo Ma allora Ce la facciamo? Eh? Che qui non succede nulla Qui parlano in tedesco Ma basta parlare in tedesco Dai, ce n'è Ecco, quella lì Quella lì Ma Quello spara Tanto per sprecare le cose Ok, ce le ha messo Quello non si sa se c'è Lo so, basta prendere le risorse Vabbè, hanno detto due Eh, vabbè Dov'è, dov'è, voto e kick Dai, siamo in 13 su questa nave Oh Bene Quello è stato kickato Ottimo In questo noi vede questo Non so che dire Non so cosa fare C'è quello lì Minchia a destra Dobbiamo mettere le cose La nuova Dai, dai, dai Ma dov'è, dov'è il galeone? Questa Sono cieco Era troppo basso per essere un galeone Siamo pronti? Siamo pronti per grappolare? Ok, ah Ah, devo bere il tè Non posso, non posso bere il tè Non posso bere il tè Ah, lo stanno già usando Dai Bastardi vi buco Pezzi di merda Vi buco Vi buco Ah, miss Ma cosa ce l'avevo davanti Aspettate, devo bere ora Ok, ok, ok Ok Allora, andiamo un attimino dietro Ah Ah, no No Dove vado? Eh Su di qua Dimmi che ci passo Dimmi che non sono grasso Ah Ah Come faccio? Ok Ok Ok, ok Ce la faccio Dai, bevi Ah Uh Uh Come l'ho preso Bevi, bevi, bevi il tè Bevi, 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 bevi Bevi, bevi Ah Ah Bastardo Ma vaffanculo Mi stavo bevendo il tè Me lo stavo gustando Sono in tre Sono in pochi Però anche di là sono in pochi Dai, abbiamo 40 secondi Nascondetevi Quante siamo? Sono in tre contro due Dai, tre contro due Tre, no Oh, uno ce l'avete dentro Oh, ce l'hai davanti Appendilo Bah, l'ha preso È rimasto quello Oh, non lo vede questo qui, mossa? Ce l'ha lì Ma 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 Ah, forse era un compagno Ma Delle altre cose Abbiamo 13 secondi Dai, dai, dai Quello è brutto, eh Guardatelo, guardatelo Madonna, gli sparano Oh, sì Team kill Oh Ah Sorry for the team kill There was Ah Manomale la pistolina Si ricarica velocemente Dai, venite Pezzi di merda Di sotto? Ho detto due sotto Ok, quello tanto lo stanno massacrando loro Eccolo, 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 eccolo Ah Vieni qua Vieni qua Ah Ora bevo Bevo È quello È quello Oh, sì L'abbiamo ucciso E? Ne manca qualcuno Oh, sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Uh, oh Basta Vieni qua Vi uccido a tutti Eh, devo ricaricare Però non vale così E io vi accoltello tutti Perdo punti E mi diverto Ah, ah, ah Bene, niente Credo di aver fatto un video Molto veloce Credo proprio di sì Però dai L'avete visto Quindi magari se Se un giorno uscirà un video Del genere Uguale a questo Tema bello Forse Non so Secondo me È uscito bellino No, voglio ritornare di là Mi piace passare di qua E quindi niente Mmm, che dirvi Io Io vi saluto Quindi per Forse fino a close the beta Non uscirà escape Perché tanto Nel 18 mi arriva Windows 10 Perché si è ancora Windows 7 E quindi Dovo reinstallare tutti i giochi Perciò quindi Non lo reinstallo Ora non perdo tempo A reinstallarlo adesso Quindi Niente Noi ci vediamo Alla prossima settimana Con nuovi video Magari vi rifiace un altro Su BlackWay Che ve lo porto subito lunedì O Il venerdì dopo E quindi niente Io vi saluto E ci si vede alla prossima Bye bye Anzi ciao Bye bye è brutto Sì Ciao